Ecco le immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno pizzicato sul fatto tre uomini residenti nel grattacielo di via Pisa che con alcuni sacchetti di rifiuti in mano si dirigono verso l'area dove vengono depositati i contenitori della raccolta differenziata per il quotidiano svuotamento. Ma anziché conferirli nell'apposito bidone, i sacchi vengono abbandonati lungo la strada. I tre poi si allontanano come se nulla fosse. Sono stati questi fotogrammi a permettere agli uomini della polizia locale di identificare i responsabili che sono stati sanzionati con un verbale da 400 euro ciascuno. Questo è uno dei risultati dei controlli degli agenti ieri mattina in una decina di appartamenti della Tower House di via Pisa per verificare casi di sovraffollamenti, la regolarità dell'ospitalità e appunto eventuali responsabilità per episodi di ecovandalismo denunciati nei giorni scorsi nei pressi dello stabile. In un'abitazione è stato sorpreso un cittadino pakistano di 42 anni già oggetto di due provvedimenti di espulsione. In un'altra invece è stato scoperto un 35enne senegalese già noto alle forze dell'ordine per precedenti dispaccio che è stato invece denunciato per non aver ottemperato all'obbligo di non risiedere a Treviso. I servizi di sicurezza urbana continuano con costanza soprattutto in quelle zone dove gli stessi residenti chiedono maggiori controlli e dove effettivamente si registrano situazioni più critiche, spiega il comandante della polizia locale di Treviso Andrea Gallo. In via Pisa rispetto a qualche anno fa si è registrato un sensibile miglioramento. I controlli proseguiranno senza sosta e proprio in via Pisa nei prossimi mesi, continua Gallo, è prevista l'installazione di un nuovo sistema di lettore targhe, oltre al fatto che da circa 15 giorni si è aggiunta una nuova telecamera per soldiare al meglio l'abbandono dei rifiuti.